Si chiamava Ashley Colmer e aveva 28 anni di età, era una donna australiana, la quale è morta in meno di due mesi dopo aver ricevuto la diagnosi. In pratica questa donna credeva, pensava di avere l'influenza, una banalissima influenza, e però non riusciva a guaiere. In ospedale però si è regata, grazie al fatto che l'hanno accompagnata, anche per capire quello che effettivamente parlando aveva, visto che l'influenza non passava, è arrivata la diagnosi scioccante, l'eucemia, il tumore del sangue per eccellenza. Dopo due mesi la donna purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta. I parenti e gli amici più stretti la ricordano come una donna gioiosa, giocosa, una donna che amava vivere, amava la vita più, direi, e soprattutto che voleva viverla al meglio e più possibile, ma purtroppo la leucemia l'ha stroncata sul nascere, o meglio, e ha tolto la possibilità di proseguire a vivere. Una vicenda incredibile. Ashley Colmer riposo in pace.